Grazie a tutti. Stop alle discariche, stop al turismo dei rifiuti in giro per il Lazio, per l'Italia e per l'Europa, Roma punta pagina e recupera un ritardo storico inaccettabile per diventare una città più pulita, più verde, più efficiente e più economosa. Quale sarà l'impatto sul Santa Colombe e cosa possiamo dire a chi vive in quella zona? L'impianto è in una zona industriale, a differenza di altri impianti abbiamo fatto vedere che sono nelle vicinanze in zone residenziali anche molto pregiate. A tre chilometri dal termalizzatore di Parigi ci sono tra i quartieri più valore maggiore delle abitazioni. C'è il Roland Garros, ci sono spazi pregiadissimi, noi siamo in un'area industriale, peraltro chi sarà meno distante dall'impianto avrà i benefici in termini energetici, in termini che spesso questi impianti possono dare. Stiamo parlando di un impianto che grazie alle tecnologie che ormai da anni sono disponibili ha un impatto minore di una strada trafficata e che invece dà dei benefici al territorio come avviene in tutte le altre capitali italiane e europee.